ciao a tutti oggi prepareremo le fave dei morti il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono farina di mandorle zucchero farina di tipo doppio zero burro uovo cannella pasta di limone o la scorza grattugiata di un limone e rum o grappa andiamo e via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la farina la farina di mandorle l'uovo il burro la pasta di limone il rum e la cannella ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 5 trasferire su un piano di lavoro su un piano di lavoro infarinato formare i biscottini tagliare un pezzo di impasto formare dei filoncini tagliare dei tocchetti e dare la forma ovale posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 13 15 minuti i biscotti sono cotti lasciare raffreddare completamente prima di servire fave dei morti grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti